Non intuisce nemmeno. Che cosa vuol dire la frase ha un cervello quanto un'acciuga? Commento. Vuol dire che la persona a cui è indirizzata si comporta avventatamente senza giudizio. Le acciughe sono vendute in genere senza testa. Ma chi pronuncia sentitamente questa frase dimostra che non intuisce nemmeno come nella struttura matematica della realtà non esista nessuna insufficienza che non sia necessaria nell'ordine del cosmo.